La Darsena Borghese di Fano, liberata ormai dalle ingombranti vele pubblicitarie, si avvia verso un completo recupero di tutta l'area ed è un privato a proporre un progetto di riqualificazione e restauro dell'intero sito. L'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinei d'Italia, che ha proprio nello stabile della Darsena la propria sede, presenterà domani un progetto di un proprio socio per la sistemazione del porto canale. L'innovazione di questo progetto sta nel fatto che non si restaura solo uno stabile, cosa imprescindibile, ma si interviene anche sulle infrastrutture del cinquecentesco porto di Fano. È un progetto che comunque potrebbe essere fatto in tre step, magari la cosa principale è la riqualificazione del fabbricato, questa è la cosa primaria, dopodiché il lungo porto e poi il ponte. In che cosa consta questo progetto? Quali sono le variazioni e le modifiche che potrebbero essere apportate? Prima cosa è la sistemazione del fabbricato, quindi tutte le opere murarie per riportare in sicurezza e in decenza questo fabbricato, dopodiché la riqualificazione del lungo porto con illuminazioni, panchine eccetera e alla fine, quasi vicino al ponte della ferrovia, un ponte in legno per dare la possibilità ai fanesi di passare da una sponda all'altra. L'Associazione Marinai d'Italia inoltre sarà impegnata in una mostra storica per ricordare il contributo alla grande guerra della Regia Marina nel 15-18, con una serie di conferenze e una mostra stabile nei locali dell'Associazione, visitabile dal 26 di luglio tutti i fine settimana dalle 18 alle 23. La Marina ha fatto tanto, nonostante magari si parla sempre delle trincee, dei fanti che sono morti. Anche la Marina abbiamo avuto dei fanti, come qui sono riportati, che hanno combattuto sul Piave.